con poco prende velocità è americana, non è questa qua però sono ingranaggi di... come di che anno più o meno questa? del 1900 invece questa? del 1856 cubi questa qua, guarda, funziona? e funziona? è vero signora, una volta non ero mio tanto frattini guarda che roba che facevano immagina, tutto è buono invece adesso, tutto col computer tutto fanno veloce ma... veloce però... però questa è la vera forza qui la roba che fanno adesso fra cent'anni non esiste più niente invece qua? tutto piano no di 1856 questa del 1800 ma questa qua è una delle prime è un po' più grande la nostra è il Singer ma è un pochino più grande ma questo qua è una delle prime che facevano sì, da girare e tutto così però guardi qua sì, sì, ma... noi l'abbiamo... sì, 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 sì lì c'è tutto quel meccanismo sì, sì è bello eh sì, eh, sono belle belle, eh ma c'erano i tempi incredibili belle che erano già... che si potrebbero trasportare mi spiega io sono malato che è malato della roba vecchia se uscita ma piace anche a noi e anche questa qua, guarda vediamo come funziona questa se avevo le cordici che le portavo e anch'io con le cordici che non vanno più è qua vicino no attenzione 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 un attimo se lo mettiamo a posto perché passando fuori il binario è certo allora così e questo si chiama la muletta? il muletta, sì qui si parlavano i cortelli crombici questi qua ah, per tagliare la carne no? no, queste qua erano per tagliare i contadini per tagliare le piante ahhh sì 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 ma sei bravissimo e lei come si chiama? quale? io ho preso più ah, d'accordo grazie mille signore arrivederci ciao